Buon pomeriggio, buon inizio di settimana, come sempre con il nostro primo piano, reduci da una nottata lunga, la nottata dell'arrivo della nave rigassificatrice Golar Tundra a Piombino, se ne parla da mesi ormai e dopo tante polemiche, manifestazioni, battaglie, fischietti, la nave è nel porto dalla serata di ieri con l'inizio poi delle operazioni di rigassificazione che arriverà tra qualche settimana, servirà ancora un po' di tempo per mettere a punto il tutto, però di fatto la giornata è storica proprio da questo punto di vista. Secondo le analisi che SNAM, che sta tenendo proprio in questi minuti una conferenza stampa per raccontare tutta questa operazione, l'Italia sarà indipendente dal gas russo già da questo 2023, grazie proprio a ciò che farà la nave di Piombino, poi ne arriverà un'altra a Ravenna, rimarrà a Piombino per tre anni e poi si vedrà perché insomma lascerà la Toscana dove andrà, dovrebbe anche questa andare in Emilia Romagna, almeno così si fece sfuggire il governatore Gianni qualche giorno fa in Consiglio regionale, però poi insomma di conferme definitive in questo senso non ce ne sono. Parleremo di questo, parleremo della proposito di Gianni questa mattina, grande cerimonia al Teatro della Compagnia a Firenze per celebrare il midterme, il metà mandato del Presidente della Regione, c'era Cristina Giacchi, consigliera regionale del PD, salve e benvenuta, bentornata. Buongiorno, bentrovati. Sindaco di Piombino che ha battagliato per tanto tempo di Fratelli d'Italia come Paolo Marcheschi, senatore, salve, bentornata anche a lei. Salve a voi. E allora, prima di tutto andiamo sul luogo dove tutti i riflettori sono accesi ormai dalla serata di ieri, ovvero al porto di Piombino, da Luca Lunedì che è lì proprio da ieri sera che ha trascorso tutta la notte, la notte dell'arrivo della nave, è stata una nottata di una mattinata molto lunghe, Luca. Sì Nicola, lunghe e impegnative, più che altro bagnate da una pioggia poco fortunata, ecco, però ecco l'abbiamo seguito e abbiamo visto la nave arrivare in porto, la Golar Tundra, appena era uscito l'ultimo traghetto per l'Elba, esattamente come annunciato, adesso la vedete alle mie spalle, eccola là, quella grande nave blu, 300 metri di scafo, 55 di altezza, 43 di altezza, resterà là per i prossimi tre anni. Questo è il piano annunciato da Sdama e però fa strano parlare di dove andrà, terminati i tre anni per una nave che è arrivata adesso e ancora deve entrare in funzione, ma la cronaca politica ci porta a parlare di questo perché il Presidente Gianni, che è qua e i colleghi stanno facendo gli ammaggini della conferenza stampa che è appena terminata, ha concesso a Sdama appunto tre mesi di proroga per decidere dove andrà una volta lasciato Piombino. Ecco, noi all'inizio... Parla, se ti giri lo prendiamo al volo il Presidente. Luca, se mi senti riesci a prendere il Presidente al volo, riusciamo magari... Ma è passato... è un attimo che provo a fare... Vai, vai, allora, guarda se recuperi il Presidente. No, è già andato. Eh no, è andato... Vedo se riesco a recuperarlo un secondo. Vai, vai, allora, se riesci a portarcelo... Il gazebo, quindi... Se riesci a portarcelo in diretta comunque lo sentiamo volentieri. Intanto stamani hai realizzato un contributo importante, Luca. Sì, sì, siamo riusciti a chiedere a Snam esattamente due domande fondamentali. Come e quanto contribuirà questo impianto al fabbisogno nazionale? E come risponde Snam alle critiche arrivate dal territorio, alle preoccupazioni riguardo alla sicurezza? Prima di lanciare quel contributo, però, vi dicevo che abbiamo chiesto... Abbiamo fatto la prima domanda alla conferenza stampa proprio chiedendo a Snam se ha già idea di dove andrà la Golar Tundra una volta lasciato Piombino. Ha detto che ci sono delle valutazioni in merito, ma due zone sono state individuate, Alto Tirreno e Alto Adriatico. Queste sono le due zone di interesse. Allora, intanto vi farei sentire l'intervista che abbiamo fatto ai vertici di Snam. Provo a recuperare il Presidente. I due rigassificatori sono essenziali per assicurare l'indipendenza energetica del Paese. Io le do un numero che credo renda l'idea. Noi storicamente importavamo dalla Russia 28-29 miliardi di metri cubi di gas. L'anno scorso li abbiamo ridotti a 11 e i due rigassificatori permettono di fare l'ultimo miglio di coprire ancora quello che manca per renderci indipendenti. Premesso che ci sono oltre 50 impianti di questo genere in esercizio da anni e non c'è mai stato un incidente rilevante in nessuno di questi. Il tema della sicurezza è coperto e gestito da una direttiva europea che era stata recepita in Italia. C'è una legge Seveso che dice esattamente come devono essere predisposti i rapporti di sicurezza. Noi abbiamo ottenuto il nulla osta di fattibilità e abbiamo presentato il 7 marzo il rapporto definitivo di sicurezza. L'analisi di questi rapporti è affidata a un comitato tecnico regionale, supervisionato e presieduto dal Vigile del Fuoco e il Comando regionale. Esiste un processo estremamente strutturato e dettagliato per valutare la sicurezza di questo tipo di impianti. Allora, questo è un annuncio importante. Indipendenti dal gas russo, già nel 2023 era l'obiettivo che ci siamo proposti, che è la grande vittoria del Gianni Commissario? Devo dire, è un obiettivo ragguardevole che ci aspettavamo a fronte del grande sacrificio che la Toscana sta facendo e che il territorio sta facendo per aiutare il governo a raggiungere l'indipendenza energetica. Quindi sono contenta di quello che sento, cioè che l'obiettivo è così ambizioso e un obiettivo così ambizioso si dà per raggiunto. Il peso che dovrà sopportare Piombino è un peso rilevante. Ora l'attenzione a tutte le partite sono quelle delle compensazioni e dei possibili miglioramenti dell'assetto compensativo che è stato raggiunto. Gianni, in questo senso stamani ha dato un po' di tempo in più a Snam per chiudere la partita. Ha dato un po' di tempo in più ma ha anche annunciato nel corso della presentazione della relazione di metà mandato questo importante emendamento che al momento è in corso di approvazione in Parlamento, è stato sottoscritto dai parlamentari del nostro partito per raddoppiare l'entità del finanziamento delle compensazioni. Sembra che ci sia un accordo di massima per portare in fondo questa operazione. Credo che sarebbe una cosa buona che può anche tranquillizzare coloro che ancora sono preoccupati per la presenza di questa nave nelle acque di Piombino. È chiaro che da Toscana, dico, se il futuro di medio e lungo periodo è fuori dalle nostre acque, beh, ancora meglio, se dovremo tollerarla ancora perché il governo ce lo chiede, valuteremo e cercheremo di spiegare ai cittadini che non sono sprovveduti, che quando le cose si spiegano loro e si fa capire l'importanza di un'operazione e soprattutto quando, come in questo caso, i tempi e i fatti rispettano gli annunci, credo che anche i cittadini possano apprezzare e tornare indietro sulle loro diffidenze. Perché, devo dire, marzo si era detto e marzo è stato, e quindi questo fa ben sperare che le tempistiche annunciate anche di sopportazione della presenza della nave siano rispettate. Un'infrastruttura, questa Marcheschi, che era stata pensata, ipotizzata, la nave è stata, diciamo, individuata con il governo Draghi, ma che poi il governo Meloni ha, diciamo, portato avanti, anzi, considerandolo comunque sia un punto di riferimento, doveva, potrebbe arrivare anche la stessa Presidente del Consiglio nei prossimi giorni, insomma, per vedere questa opera, a prescindere, diciamo, dalla battaglia del Sindaco di Fratelli d'Italia, di Piombino Ferrari, che ha portato avanti fino all'ultimo. Sì, diciamo, le criticità le abbiamo esposte più volte nella fase, diciamo, istruttoria della decisione, non tanto, diciamo, per la finalità che condividiamo, che oggettivamente, insomma, i dati dimostrano che il governo, anche, insomma, quando il Centro Testo è arrivato al governo, con Giorgio Meloni abbiamo rispettato quelle che sono le decisioni presse dal governo precedente. Ovviamente le, diciamo, le nostre perplessità erano sia, diciamo, per la comunità locale, che si è sentita scavalcata, non ascoltata, addirittura hanno vissuta come un'imposizione, in modo tale da quasi non percepire quelle che possono essere le compensazioni. Quindi nessuna compensazione a parte della cittadinanza può essere sufficiente a risarcire questa cicatrice. Però credo che nel contesto, diciamo, di emergenza nazionale, e ahimè, ci siamo arrivati dopo dieci anni di malgoverno, di Cinque Stelle e anche PD, siamo arrivati praticamente a dover mettere fra le priorità, anche di questo governo, questa autonomia energetica a livello internazionale e anche la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Quindi si è dovuto lavorare molto della prima finanziaria, dei costi che avremmo voluto dare in modo differente sono stati assorbiti dall'aiuto alle bollette, alle famiglie, alle aziende. Quindi auguriamoci che questo provvedimento, diciamo, che oggi inizia, però è bene specificare che inizia, è arrivata, ma quanto si dice a livello locale, ancora tutto il litere autorizzativo non è compiuto. Il sindaco di Piombino ci tiene ancora a dirlo e ancora ci sono delle risposte, delle procedure. Quindi non so se il presidente Meloni verrà, ma verrà quando sarà ovviamente finito tutto l'iter e quando sarà pronta, diciamo, per una cosa ovviamente fondamentale, importante, sul quale anche il governo, ma non solo il sindaco di Piombino, conta molto sul lavoro del presidente della regione Gianni, è su indicare chiaramente, già in anticipo, che la destinazione della nave, dopo i tre anni che sono previsti, sia altrove da Piombino, perché nelle compensazioni di cui si sta ragionando, si sta ragionando, diciamo, di una privazione di tante attività che il piano portuale di Piombino aveva previsto, quindi limitate ai tre anni. Quindi se rimanesse di più dei tre anni, visto che ci sono altre regioni, come l'Emilia, che si è prodigate o fatte in avanti per prendere questo genere di attività, sarebbe bene appunto un accordo. O il, diciamo, il Tirreno del Nord, ci diceva Luca lunedì adesso, quindi, diciamo, il governatore della Liguria Toti già si era candidato ad ospitare quest'opera, quindi potrebbe essere la spezia, l'altra indicazione. Se ci sono ovviamente delle enti locali o regioni che hanno, diciamo, delle caratteristiche per le quali riescono a concordare con i sindaci e con le comunità locali una collocazione migliore rispetto a come è subita da Piombino, penso saremo tutti contenti. Quindi che si lavori in questo senso, io penso che il Governo nazionale, insieme al Presidente Gianni, se dimostrerà, diciamo, di dare seguito a quello che dice e al Sindaco di Piombino, potremmo essere tutti insieme a lavorare nello stesso modo. Un'opera, tra l'altro, che a livello internazionale era molto attesa, soprattutto da una parte, insomma, di chi guarda lo scacchiere proprio internazionale. Lei Marcheschi è reduce da un viaggio, da un tour, nel quale ha avuto modo anche di saggiare quella che è la percezione del nostro paese negli Stati Uniti, se non sbaglio. Sì, siamo stati a una delegazione a rappresentare Fratelli Italia nel CIPAC, che è la Convention dei Conservatori Internazionali. E devo dire che anche all'incontro che abbiamo avuto con l'ambasciatore americano a Washington, è emerso chiaramente che, nonostante ci fosse delle oggettive diffidenze, nel cambio di governo da Draghi, che è sempre stato, diciamo, collocato nelle orizzonti internazionali, sempre nell'Occidente, senza alcuna indugio. Quindi questa scelta del popolo italiano di cambiare e andare a destra oggettivamente era vista con curiosità, ma probabilmente anche con perplessità. Quindi abbiamo capito che invece nei primi mesi del governo Meloni anche l'opinione internazionale, soprattutto americana, ci è stato riferito di un grande apprezzamento, soprattutto, diciamo, proprio per la grande attività e capacità di leadership che ha avuto negli incontri bilaterali in paesi che sono sicuramente collocati nel blocco occidentale, ma anche, diciamo, nel Nord Africa, perché è vero che noi si lavora, diciamo, per avere un'autonomia energetica, quindi facendo questi rapporti con i paesi del Nord Africa, ma è anche vero che rafforzando l'economia e la stabilità dei paesi del Nord Africa si genera ricchezza lì e quindi è apprezzabile perché ovviamente gli americani pensano a una difesa del mercato nei confronti della Cina, no? Quindi hanno paura dell'aggressione del mercato, cioè del mercato, di questi poveri paesi, poveri, diciamo, dell'Africa e che potrebbero essere predati dalla Cina. Quindi vedono di buon occhio, diciamo, di questo nostro attivismo perché non solo l'Italia ne trova giovamento, ma costruisce, diciamo, un percorso di lavoro e di benessere anche nel Nord Africa che è strategico, ovviamente, per la pace nel mondo, per i scacchiere internazionali. Ci ha raggiunto, tra l'altro, Luca Lunedì, missione compiuta, è riuscito a recuperare il governatore Gianni e allora sentiamo anche la sua soddisfazione, insomma, ha fatto un tour de forza, stanotte era lì, poi stamattina è tornato a Piombino, poi è tornato di nuovo là, ma insomma, non ci sorprendiamo, non staccano vista il Presidente. Sì, sì, missione compiuta, l'abbiamo fatta, anzi, ringraziamo il Presidente Gianni per averci raggiunto. Lei ha definito poco fa la nave della libertà. Perché è la nave che consente all'Italia di essere libera, di poter acquistare il gas che è necessario per la nostra autosufficienza energetica, non con i vincoli del gasdotto che ci porta a sapere che i nostri soldi per comprare il gas vanno alla Russia e quindi vanno alla sua guerra di aggressione all'Ucraina, ma di acquistarlo con la libertà di capire a chi vanno i soldi per il gas di cui abbiamo bisogno. Qui, con una nave di rigassificazione, possono arrivare navi metanieri dal Qatar, dai paesi arabi, come dalla Tunisia, dall'Algeria, come dagli Stati Uniti. saremo noi a scegliere sulla base anche di indicazioni di valori come indicazioni del mercato e quindi dei prezzi. Per questo io la vedo come uno strumento che consente di avere bollette meno esplosive per i cittadini e per le imprese, ma la vedo anche come uno strumento che ci permette di poter scegliere da chi dare i nostri soldi come Italia per acquistare il gas. Questo è dunque l'opinione insomma del Presidente. Sul futuro Luca, la domanda che hai fatto prima vediamo se Gianna ha qualche indicazione in più. Ripeto la domanda che ho fatto prima in conferenza stampa se abbiamo indicazioni sul futuro della Golar Tundra. Ma io ho dato 90 giorni di proroga sul termine per l'indicazione che deve arrivare da Snam perché vedo che Snam sta lavorando su destinazioni è stato detto stamani nella conferenza sia dell'Alto Tirreno sia dell'Alto Adriatico quindi avendo l'opportunità di poter pensare che nella seconda fase quella cioè dopo i tre anni in cui sta nel porto di Piombino va su una piattaforma offshore a largo che questa piattaforma offshore a largo possa essere identificata sulla base dei criteri scientifici da parte di Snam fuori dalla Toscana è evidente che sono portato a favorire questa tendenza ringraziamo il Presidente Giacchi lasciamo altri colleghi che hanno la stessa necessità al nostro assolutamente grazie Luca grazie al Governatore è una risposta importante anche in quello che dicevamo poco fa con Marcheschi Giacchi per lo scacchiere internazionale ma certo che lo è devo dire per chiarezza con gli ascoltatori non è che questo Governo ha cambiato politiche sull'approvvigionamento cioè e si dedica ad altre fonti di produzione dell'energia è che ha cambiato con la nave rigassificatrice accolta politica accolta dal Governo attuale del Paese si ampiano le possibilità di reperimento sul mercato del gas non è che si è deciso di fare almeno del gas da acquistare perché non siamo in condizioni chiaramente però con queste nuove infrastrutture siamo in condizioni come ora spiegava il Governatore di scegliere da chi rifornirci e questo diciamo consente non di cambiare politiche dal punto di vista dell'energia ma di cambiare senz'altro il peso di essere più liberi ci eravamo legati un po' troppo alla Russia dipendevamo dalla Russia con il gasdotto con l'unica fonte di approvvigionamento attraverso il gasdotto in questo modo possiamo pesare anche di più nelle politiche diciamo trasversali le politiche energetiche sappiamo che sono politiche che non toccano soltanto questo aspetto ma incidono su molti altri fattori lo sviluppo dei territori gli assetti commerciali è chiaro che a me fa molto piacere che il Governo Meloni si confermi le politiche e i rapporti nell'assetto atlantico i rapporti con il Nord Africa che si continui nelle linee di intrattenimento di politiche di negoziazione e di confronto per mantenere un assetto mediterraneo che veda l'Italia sempre più protagonista e sempre più capace di difendersi e di collocarsi in modo autonomo e da protagonista non la vedevo convinto Marcheschi perché? no no volevo solo precisare non per entrare in polemica politica che è vero che abbiamo ovviamente proseguito alcuni ragionamenti internazionali anche ovviamente dovuti anche alla necessità delle fonti di approvvigionamento però abbiamo messo qualche inversione penso ad esempio alla riapertura delle trivellazioni in tutto l'Adriatico che erano state bloccate non si capisce come mai mentre magari la Croazia utilizzava diciamo al confine con il nostro mare loro lo utilizzavano e noi no ecco questo è stato diciamo un'accelerazione che noi abbiamo fatto un'inversione rispetto al governo più giallo che rosso diciamo così perché in quella passata eravamo a favore però ecco il provvedimento l'abbiamo preso noi ecco quindi su questo ovviamente rivendico c'è veramente un'attenzione quindi quello che c'era stato di buono l'abbiamo proseguito quello c'era da migliorare lo stiamo migliorando ovviamente il tutto in un momento di emergenza perché l'emergenza gas si è scatenata nel momento del conflitto in Ucraina ma siamo in una fase di transizione la transizione ecologica ed energetica che stiamo vivendo tutti noi anche insomma stiamo vedendo con i nostri occhi c'è chi chiede di fare più veloce c'è chi lo chiede in maniera con dei cartelli sono i nostri ragazzi che scendono magari in piazza molto spesso il venerdì c'è chi lo fa in maniera un po' più rumorosa e anche insomma creando un po' di caos come chi imbratta Palazzo Vecchio o altre strutture ha fatto il giro d'Italia almeno quello che è il salvataggio del sindaco Nardella di venerdì proprio in piazza della signoria Nardella che stamani ne ha riparlato sentiamolo dunque vedremo quelle che saranno le sanzioni e se saranno combinate alla fine delle indagini io posso dire solo questo che attaccare il patrimonio storico artistico per una battaglia anche molto condivisibile come quella sull'emergenza ambientale è sbagliato anche perché non porta consenso a chi fa queste cose e quindi crea una spaccatura tra i manifestanti e la società civile io ho incontrato in questi giorni un sacco di cittadini e cittadini arrabbiatissimi non solo a Firenze ma anche tutta Italia per quello che è successo una battaglia sul clima con la disapprovazione di larghissima parte della società civile non mi sembra una grande cosa per questo penso che si debba trovare una strada diversa perché il tema ambientale è un tema vero è un tema serio e noi sindaci siamo in prima linea su questo fronte lei che di Rardella è stata vice ma ora che non ci sono le cabine telefoniche dove si cambia il sindaco per trasformarsi da sindaco al supereroe è un Batman di suo non ha bisogno neanche di investito no devo dire è un episodio che denota quali sono i limiti di questo tipo di attivismo io tante volte mi sono confrontata con giovani anche di simpatizzanti di ultima generazione che mi dicevano ma uno è un amico mi diceva ma secondo te si fa bene dico ma guarda sicuramente sono proteste molto forti molto efficaci per l'attenzione che creano però il rischio è forte di andare incontro a una disapprovazione che oscura poi la battaglia e fa concentrare soltanto sul gesto di per sé quindi oltre a essere un controsenso vero abbiamo letto dell'acqua sprecata per quella ripulitura delle energie e delle risorse necessarie per farlo a parte i volontari e il sindaco ma c'erano persone che erano lì al lavoro ed erano lì per far altro che hanno dovuto procedere a quella ripulitura credo che questo sia un prezzo troppo alto e che si possano fare battaglie anche rumorose che però non hanno questo tipo di impatto e non generano un effetto perverso di indifferenza e anche di indignazione che poi ricade sulla battaglia giusta e oscura l'assessore all'ambiente del comune di Firenze Andrea Giorgio è un po' anche Nardella però insomma non l'ho capita fino in fondo la posizione del sindaco erano disponibili Giorgio in maniera molto chiara anche al dialogo con questo tipo di con chi insomma ha fatto quel gesto venerdì mattina lei che ne pensa? Io credo che il dialogo sia sempre opportuno cioè un dialogo che sia un dialogo educativo di chi si fa carico di una carenza perché chi manifesta in questo modo per una battaglia anche giusta ma lo fa in questo modo ha bisogno di un confronto educante con coloro che rappresentano le istituzioni quindi benvenga un confronto che chiaramente questo non significa non prendere provvedimenti e non sanzionare le condotte che danneggiano il patrimonio di tutti i cittadini e che impiegano le risorse di tutti i cittadini un'azione come questa implica ripeto un esborso di risorse pubbliche che pagano tutti i cittadini e non è giusto Marcheschi che idea si è fatto del Nardella Supereroe ma allora del Nardella Supereroe diciamo che se mi fosse capitato di essere lì probabilmente anche io avrei perso le staffe e sarei intervenuto quindi se è andata tutta diciamo come sembra gli faccio complimenti perché è stato bravo a intervenire ha dato dimostrazione di avere passione per il ruolo e per la città ovviamente qualche dubbio vengono perché in rete si sono visti dei video diciamo con i giornalisti già tutti pronti e quindi a riprendere non Nardella ma diciamo gli attentatori e quindi era chiaro che gli addetti ai lavori quindi compreso sicuramente l'ufficio stampa di Nardella tutti sapevano cosa sarebbe accaduto quindi questa è un po' una perplessità che spero che lui riesca a chiarire presto perché oggettivamente si venisse a sapere che lui era il corrente che ci sarebbe stato diciamo un attentato a un monumento avrebbe dovuto far intervenire le forze di polizia prima e non intervenire lui per fare la sceneggiata quindi mi auguro che non sia così mi auguro perché fra l'altro in quel caso lì sarebbe grave però farei complimenti molto al suo addetto stampa perché il film sarebbe venuto così perfetto è quasi impossibile visto che a lui spesso non le fa le cose perfette quindi avrei dubbi diciamo che fosse da Oscar ecco l'Oscar a Giovanni Carta come capo della comunicazione di Nardella insomma ma non la vediamo che idea sociale trovo che queste illazioni siano anche affermazioni un po' pesanti verso persone che fanno il loro lavoro l'ufficio stampa del sindaco è un ufficio di persone serie che se avessero avuto notizie di un possibile danneggiamento del palazzo non avrebbero certo puntato a fare video o ascolti per un sindaco che è già molto ascoltato e ha dei social con dei numeri che molti se li sognano quindi non credo che assolutamente si possano fare relazioni di questo tipo ma Sav si veniva dal congresso dal caso del re quindi magari potrebbe essere no siamo cattivi no secondo me no è proprio una cosa che non ha cioè che non ha non vede un possibile controbilanciamento e oltretutto devo dire il rischio che si sarebbe preso sarebbe stato un rischio veramente alto perché fare un'operazione del genere pensando la prima devo dire fosse andata male insomma si fosse visto il trucco un flop che veramente può costarti la carriera quindi veramente trovo che queste illazioni oltre a essere irragionevoli e immotivate siano anche pesanti ripeto più che per il sindaco quando noi sappiamo e quando facciamo politiche siamo figure pubbliche ci esponiamo anche all'illazione al fatto che di noi si pensi il peggio ma rispetto alle persone che lavorano in quegli uffici francamente mi sembrano dubbi pesanti marcheschi il fatto che proprio l'ufficio stampa del sindaco lui non sapessero niente visto che c'era già i giornalisti pronti con le telecamere lì che lo ignoravano in mezzo alla piazza però ripeto è un legittimo dubbio che spero che lui sappia ovviamente rispondere bene come saprà fare secondo me è un dubbio che non ha ragione d'essere i due operatori che c'erano erano stati avvisati da Ultima Generazione che aveva fatto una sorta di avviso stampa pochi minuti prima dell'evento per dire che sarebbero stati lì non erano giornalisti che seguivano il sindaco che stava facendo tutt'altro dall'altra parte della piazza ma tutt'altro no perché faceva qualcosa sempre legato ai restauri stava parlando del restauro della statua casualmente no c'è un cantiere molto bello fra l'altro un cantiere visitabile sul restauro della statua del Gran Duca e il sindaco stava facendo un video per i suoi social con il suo operatore social non con i giornalisti sul video sul restauro sul cantiere di restauro è da lì che nasce lo scatto è da lì che nasce quel video che si vede nei social dove c'è il sindaco che parla e dopo si vede dietro e lui che si accorge e lui che scatta senza cambiarsi nella cabina telefonica Marcheschi da Fiorentino porta sta portando anche le istanze della città in senato in rapporto con il sindaco perché poi comunque sia è uno dei parlamentari del territorio di riferimento sì diciamo Fiorentino l'unico quindi ci tengo particolarmente diciamo in generale anche Genas sì diciamo ovviamente di governo mi diceva riesco a portare le istanze sicuramente tutti anche gli altri deputati toscani però ci tengo particolarmente alla città ma anche alla regione ho fatto il consigliere regionale per tanto tempo quindi per quanto potuso per poco più di 100 giorni sono riuscito a portare due volte due ministri qua io mi occupo sono nella commissione cultura pubblica istituzione e sport spettacolo e poi varie eventuali ce ne sono talmente tante di materie ormai le hanno accorpate quindi però ecco dicevo ci tenevo perché anche sia il ministro San Giuliano in particolare con il presidente Gianni abbiamo fatto la visita agli uffizi abbiamo come dire ragionato degli uffizi diffusi abbiamo ragionato dell'utilizzo delle ville medice di un rilancio cosa abbiamo accertato in tutti questi anni si è fatta un po' di conservazione per fortuna delle ville però ora è il momento di valorizzarle quindi il ministero si può adoperare io sto spingendo che si riesca a fare un'intesa con la regione perché no anche con gli uffizi per cercare di farle diventare una sorta di ville della loira insomma di castelli della loira sarebbe abbiamo il materiale qui in Toscana per poterlo fare quindi ci piacerebbe però insomma anche l'apertura a breve del museo a San Casciano dei bagni per i bronzi ritrovati mi viene in mente il museo del fumetto a Lucca tutte cose che abbiamo fatto e ha prontato il museo di Mitorai a Pietrasanta che avrà un ulteriore sostegno da parte del ministero tutte cose diciamo che sto cercando di seguire il più possibile incalzare il ministro perché sa insomma fare il senatore di maggioranza non vuol dire essere al governo quindi dobbiamo fare la nostra parte ma anche per lo sport e ci tengo a dirlo con il ministro San Giuliano anche abbiamo messo insieme a Nardella stavolta non a Gianni abbiamo insomma focalizzato il problema del maggio musicale fiorentino che non è stato di poco conto e quindi questo ha testimonianza che si cerca di trovare un'intesa anche se siamo di fazioni opposte è chiaro che per il bene della comunità sia locale sia nazionale si cerca di trovare laddove è possibile trovarlo con Nardella abbiamo anche ragionato dello stadio perché anche sullo stadio c'è stato un momento di fibrillazione forte quindi con l'arrivo è stato sgarbi lì a buttare la palla in tribuna come si diceva gli interventi di sgarbi un pochino spesso sono un po' autorevoli ma autonomi rispetto a dei ragionamenti complessivi però anche per lo stadio abbiamo tenuto la barra dritta ferma su quelle che erano le intenzioni di sindaco di Firenze quindi poi ci sono e ci saranno dei problemi da affrontare i problemi infrastrutturali ci sono sicuramente abbiamo visioni differenti diciamo mi auguro non sull'aeroporto perché questa svolta di PD ci preoccupa parecchio su alcune infrastrutture come l'aeroporto ma anche sul sistema trambiario fiorentino cioè noi ora che per fortuna e lì siamo d'accordo si riparte con il trafore quindi con la stazione Foste dell'alta velocità si aprono delle prospettive differenti quindi noi siamo sempre stati molto critici su un sistema trambiario che nasce vecchio e quindi nelle nuove linee vorremmo riaprire un ragionamento senza perdere quelle tantissime risorse che ci sono ma cercare di ragionare di progetti diversi di trasporto urbano ma lei al buomo ce la vuole il tram? no assolutamente no ma io non ricordavo che non ce la voleva da tempo non lo vorrei neanche al campo di Marte io ecco quindi non la vorrei neanche lì vorrei cercare di evitare di trovare soluzioni diverse do solo un lancio per farvi capire un'idea che non è pregiudiziale perché la tramvia va benissimo ad esempio verso Campi che utilizza già i binari che ci sono noi vorremmo rimettere al tavolo ferrovie dello Stato per ragionare se tutti questi binari di superficie che ci lasciano in superficie grazie all'accordo fatto con la regione che ora può essere diciamo portata a casa perché si riparte si fa all'alta velocità che quindi anche noi spingiamo tutti insieme dalla stessa parte se si può davvero raddoppiare come c'è scritto nell'accordo di programma tutti i treni di superficie faccio preciso insomma da Campo di Marte a Santa Meronovella ora c'è un treno ogni 10 minuti se si raddoppiano ce ne sarà uno ogni 5 minuti è già una tramvia con i binari già che ci sono magari con 400 milioni di soldi pubblici da risparmiare magari da utilizzare in modo differente anche per il trasporto di superficie Giacchi che ne pensa? intanto sull'uomo siamo tutti d'accordo che l'uscita del Re era è stata un'uscita devo dire francamente incomprensibile perché chi ha frequentato lei se le è dato una spiegazione io credo che le sia sfuggito di mano e che non abbia avuto il controllo della sua comunicazione in una fase molto delicata su temi molto delicati cioè quando si è in una squadra di governo soprattutto su un tema così ragionato su cui si è lavorato su cui da 10 anni e passa 14 ecco almeno da 10 diciamo noi con Nardella siamo al lavoro non è ammissibile perdere il controllo su un dettaglio come il passaggio dal Duomo quindi è d'accordo che forse non era proprio involontaria come cosa no io credo che fosse volontario l'effetto di scalpore ma non volontario fino al punto di cosa è costato si è voluto a far cacciare no e voleva secondo me manifestare una visione della città da chi aspira ad altro e in realtà quando c'è una squadra al lavoro queste cose si fanno in una squadra e si lavora tutti insieme quindi in realtà il tema poi è un tema che rivela un'attenzione che non è compatibile con la condizione in cui si sta lavorando oltretutto presentando un POC un piano operativo che non prevede niente di vicino a quello di cui si parla per cui è stata talmente calamorosa quasi incomprensibile sinceramente incomprensibile oltretutto appunto nel POC si affronta proprio il tema della penetrazione nel centro e lo si fa con la staffa che arriva a San Marco e nelle idee della giunta di cui anch'io facevo parte fino alla prefettura addirittura poi qui sappiamo che ci sono dei problemi ma arrivando a via Martelli si ottiene l'effetto che si deve ottenere quindi ci sono 50 metri dal ruolo esatto a me è sembrato più la ricerca di uno scalpore che poi è costato molto caro la corsa al 2024 c'entra niente? forse poteva anche entrarci in ogni caso se uno voleva farci entrare ha sbagliato come posso dire perfetto ci fermiamo ci fermiamo per un attimo con questa battuta di Cristina Giacchi ripartiamo tra pochissimo grazie a tutti grazie a tutti